Nelodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la Tua gloria proclamiamo. Nelodiamo Trinità, nel Vesco Tua bontà, Nelodiamo Trinità, nel Vesco Tua bontà, Tutto il mondo annuncia a te, tu lo hai fatto come un segno, Ogni uomo porta in sé, il sigillo del Tuo regno. Nelodiamo Trinità, nel Vesco Tua bontà, Nelodiamo Trinità, nel Vesco Tua bontà, Oggi la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità, Ma vogliamo anche ricordare la figura di una santa vissuta nel passato, Santa Rita d'Acascia. La sua vita è stata una vita in segna dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E durante la sua breve vita ha manifestato tutti questo amore di Dio nei confronti dell'umanità. E allora in questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere l'intercessione di Santa Rita per tutte le nostre situazioni personali, di vita familiare, ma anche di vita quotidiana, perché l'intercessione della Santa degli impossibili possa trovare presso Dio l'ascolto e consolazione. E prima di celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo umilmente davanti al Signore i nostri peccati. Signore, immagine dell'amore del Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, principio fine di tutte le cose e Redentore del mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore, dono dello Spirito Santo per la salvezza di tutti gli uomini, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio nipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E faccia in terra gli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazia per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, figlio e unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Per te, tu solo e santo, tu solo il Signore, tu solo il Patrissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dona a noi, Signore, la sapienza della croce e la fortezza, con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché portando le sofferenze con Cristo, partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, in un te dallo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Proverbi Così parla la sapienza di Dio, il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni opera, alla origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua. Prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra ai campi, nelle prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso. Quando condensava le nubi in alto. Quando fissava le sorgenti dell'abisso. Quando stabiliva al mare i suoi limiti. Così che le acque non ne oltropassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui, come artefice. Ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre. Ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo il Salmo. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita. La luna e le stelle che tu hai fissato. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne puoi? Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto al posto sotto i suoi piedi. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggie, gli armenti e anche le vesti della campagna. Gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Ogni essere che percorre le vie dei mari. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza, una virtù provata, è la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli, Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Grazie a Dio. 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 Invece non è così, perché i Santi hanno vissuto né più né meno come tutti noi. Forse l'unica cosa che hanno fatto, hanno vissuto in modo diverso. In che senso? La santità viene messa dentro di noi, forse i Santi e i Beati hanno scoperto questo segreto e hanno vissuto nella santità. Allora, dicendo così, uno pensa, i Santi e i Beati non hanno fatto i peccati, ma certo che li hanno fatti, però sapevano che la santità di Dio, l'essere sante è molto più grande del loro fragilità umane. E oggi, diciamo, troviamo la figura di questa santa vissuta nel passato, siamo attorno al 1300, vissuto dal 1381 al 1457, quindi nel periodo del Medioevo. E cosa è successo nella vita di questa donna? Se voi andate a vedere la vita dei Santi, è una materia che si chiama agiografia, dove vengono raccolte tutte le biografie di questi Santi. Noi troviamo la figura di Santa Rita. Cosa ha fatto? Santa Rita nacque a Rocca Borena, in un villaggio montano di Cascia, in provincia di Perugia, quindi siamo in Umbria. E l'Umbria è una terra un po' benedetta, perché se voi conoscete l'Umbria è piena di Santi. Da San Francesco d'Atsisi, poi altri Santi che conosciamo, sono tutti provenienti in quella regione lì, in quella terra. Cosa fece questa donna, questa ragazza? Disse una prima fanciullezza spianzerata in casa sua, ma a quei tempi, sapete che nel Medioevo, c'erano i matrimoni combinati. Lei aveva il desiderio di diventare suora, ma in me, per tornaconti familiari, i genitori avevano scelto un personaggio un po' brusco, rude, brutale. E a quei tempi bisognava sottostare la volontà dei genitori. E sposa questo certo Ferdinando Mancini, che era un uomo violento e burbero, dal quale aveva due figli, Gian Giacomo e Paolo. La pazienza di vita, le lacrime e le preghiere, riuscirono a poco a poco a cambiare il carattere del marito. Ma il marito durante la vita aveva lasciato i troppi conti sospeso, con molte persone, e un giorno venne ucciso. Venne ucciso. E cosa successe? Che i figli, come era tradizione, usando questo termine un po' particolare, erano in uso la vendetta. Veniva ucciso un familiare e i familiari, a sua volta, uccidevano un altro familiare di quella famiglia. E invece Santa Rita riuscì a distogliere i suoi due figli da questo progetto di vendetta. E ispirando nel loro animo sentimenti di perdono, di bontà, in altre parole quello che viene detto nel Vangelo. Però, cosa succede? E lì emerge la santità di Rita. Dopo un anno tutti e due figli morirono improvvisamente. Quindi Rita si ritrovò sola. E dopo una vita subita dalle angherie del marito, poi la perdita improvvisa dei due figli, uno cade nella disperazione. Invece, anche lì in queste situazioni un po' strane, misteriose di Dio, lei riscopre la sua vocazione religiosa. Ma anche lì non è stata una vita facile. Perché per ben tre volte cercò di entrare nelle suore di Sant'Agostino, di Santa Maria Maddalena. Ma la priora, la madre Badessa, diceva di no. Niente. Quindi, immaginate lo stato d'animo di questa donna che desiderava entrare in una vita religiosa e... Niente. Le porte del convento rimanevano chiuse, sbarrate. E secondo la tradizione, ci riuscì nel 1407. E questo ingresso in convento si dice sia stato miracoloso. Difatti una notte, mentre Rita era in preghiera, sopra una rocca, le apparvero tre santi protettori. Giovanni Battista, Sant'Agostino, infatti lei diventerà suora agostiniana, e Nicola da Tolentino. E miracolosamente la introdussero nel monastero. Poi uno diceva, ma boh, invece è così. E i santi tante volte capitano queste fortune. Si ritrova nel convento. E alla mattina, la madre Badessa e le suore rimasero stupiti da questa presenza. E quindi, vedendo questo fatto prodigioso, l'accolsero tra le coriste, quelle che sono in grado di leggere l'ufficio divino. Sapete che a quei tempi, in base a se uno sapeva leggere e scrivere, aveva un ruolo all'interno del convento. Ma lei non sapeva né leggere né scrivere, e le lasciarono questo incarico di corista. Ma aveva delle virtù eroiche. E questa monaca si dedicò nella vita di convento attraverso la preghiera, l'obbedienza e la carità. Non solo, ma aveva un grande desiderio, imitare la passione di Cristo. E voi sapete che sulla fronte di Santa Rita c'è una specie di piaga. E di fatti, questa passione di Cristo fu esaudita. Ebbe conficcata sulla fronte una spina che si staccò dal crocifisso dal quale stava pregando. E la ferita si rimargenò solamente dopo la morte. Avvenuta il 22 maggio. Anche lì, in modo, in circostanze misteriose. Difatti, nel momento in cui concludeva la sua esistenza terrena, proprio il 22 maggio, tutte le campane di cascia suonarono a festa, mosse da mano invisibile. Se fossimo al giorno d'oggi pensiamo che c'era il programma del computer che fa suonare le campane. Ma a quei tempi, tutte le campane di cascia, al momento della sua morte, suonarono. Noi pensiamo che di fronte a queste cose che la Chiesa ogni tanto ci propone, siano cose fantastiche, un po' storielle, quelle poesie un po' medioevali. Ma la vita di Santa Rita da Cascia è stata così. E difatti, la devozione verso questa donna, subito, fiorina il Medioevo. E molti miracoli, molte guarigioni, sono state proprio attribuite a lei, che viene definita la Santa delle cause impossibili. Se vi capita di andare in qualche chiesa agostiniana, tipo a Pavia, dove c'è la chiesa San Pietro, c'è il Doro, qui c'è l'urna di Sant'Agostino, che è il padre fondatore degli agostiniani. Ma al fianco c'è la cappella di Santa Rita. Se voi vi capita di andare a vedere quella chiesa, molte persone entrano in chiesa, non salutano neanche il padrone di casa, che è il Signore, nella presenza del tabernacro, ma vanno direttamente nell'altare, a fianco dove c'è Santa Rita, e pregano, ed escono. Misteri di Dio, ma misteri della vita degli uomini. Non solo, ma la devozione a Santa Rita da Cascia la troviamo anche in America Latina. Molti immigranti, quando si sono recati per cercare fortuna con le terre d'America, hanno portato la devozione di Santa Rita. Quindi Santa Rita è conosciuta in tutto il mondo. E di fatto è proprio il 22 maggio, in ogni parte dalla terra, nei cinque continenti, c'è una festa, proprio in ricordo, a Santa Rita da Cascia. Che cosa dire? Quando noi siamo in difficoltà, quando noi sappiamo a quale santo rivolgerci, se noi abbiamo un po' di familiarità con Santa Rita, chiediamo le grazie, soprattutto le donne. Le donne che hanno una vita matrimoniale, che hanno le difficoltà della vita quotidiana rispetto a altre persone. Ecco, confidate in questa santa e vedrete che la santa degli impossibili vi aiuterà nel cammino della vita, la vita di tutti i giorni. Anche se poi tante volte una piccola croce c'è, una piccola croce dell'esistenza quotidiana, che non è una croce o la spina che si conficca nella fronte, ma tutte quelle situazioni che tante volte non sappiamo come risolverle. Ecco, quelle sono le croci. Ma se noi affidiamo queste piccole croce al Signore attraverso l'intercessione di Santa Rita, vedrete che quelle croci diventano qualcosa di diverso. Faranno un po' male, ma diventeranno come delle rose, delle rose profumate per la propria vita, perché sono rose d'amore di Dio. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzo Pilato. Morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo un siede alla destra del Padre, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i divi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre, Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore, nel dono del Figlio, del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Preghiamo insieme e diciamo, Ascoltaci al Signore! Ascoltaci al Signore! Perché la Chiesa si realizzi e si presenti come comunità, radunata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Preghiamo! Ascoltaci al Signore! Perché ci ricordiamo sempre del nostro battesimo, in cui siamo stati segnati nel nome della Santissima Trinità. Preghiamo! Ascoltaci al Signore! Dall'Andùa! Perché i popoli della Terra, illuminati dallo Spirito Santo, riconoscono in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati in un unico grece con un solo pastore. Preghiamo! Ascoltaci al Signore! Per tutti gli operatori sanitari, gli ammalati e gli studenti, perché nel celebrare la dodicesima giornata nazionale del sollievo, possano sperimentare il sollievo nell'ascolto, nella gioia e nella condivisione delle sofferenze, facendosi testimonianza dell'amore divino che lega il Padre al Figlio. Preghiamo! Ascoltaci al Signore! Perché cresca in ogni persona, in ogni comunità, l'unione dell'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Preghiamo! Ascoltaci al Signore! O Dio per il tuo unico Figlio, nella potenza dello Spirito Santo, benedice e proteggi quanti ti invocano come Padre, perché ti cerchino con fedeltà, ti riconoscono nella verità e ti amino con sincerità di cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore! Amén! 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onipotente. Il Signore riceve da te mani questo sacrificio, all'auditorio del Suo nome, per il bene nostro, e tutta la Santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo, consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio, per il neate gradito. Per Cristo nostro Signore! Amén! Il Signore sia con voi! E con il tuo figlio! In alto i nostri cuori! E con il tuo figlio! Rendiamo grazie al Signore nostro Dio! Che cosa buona e giusta! È veramente cosa buona e giusta! Nostro dovere è fonte di salvezza! Rendere grazie sempre in ogni luogo! A te, Signore Padre Santo, Dio Onipotente ed Eterno! Con il tuo unico figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore! Non nell'unità di una sola persona, ma nella trinità di una sola sostanza! Quanto è rivelato dalla tua gloria, noi lo crediamo! E con la stessa fede e senza differenze, lo affermiamo del tuo figlio e dello Spirito Santo! E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina! Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini lo smettono di asentare, tutti uniti nella stessa lode, nel canto della tua gloria! Santo, 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 il Signore è il Dio dell'universo! Il Cielo e la Terra sono piedi dell'alto a gloria! O Santa, O Santa, O Santa, nell'alto dei Cieli! Viene il tuo cuore, viene il tuo cuore, e il tuo cuore, Viene il tuo cuore, o Santa, O Santa, nell'alto dei Cieli! Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi duoni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo dice i suoi discepoli, e disse, prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. mistero dell'amore, di Gesù Cristo, della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo humilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha visto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila, perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di Unigi, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e in modo particolare dei defunti Rita Navicello, Migliorati Giuseppe e dei defunti della famiglia Pelizza, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammetti da godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di ver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Santa Rita d'Acacia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, in unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santi che ha tu il tuo nome, e in alto regno sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre tentazioni, ma liberaci dall'umano. Liberaci, oh Signore, da tutti i mani, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turmamento, nell'attesa che si compie la beata speranza, e venga nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il Regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto a tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni, nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non so neanche di partecipare alla Tua messa, ma se soltanto la parola è Dio sarà salvato. Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima nel mio cielo e poi nella Tua mano. Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita, e non mi sembra vero di pregarti così. Padre di ogni uomo, e non l'ho visto mai, Spirito di vita e la guida una donna. Figlio mio fratello, e sono solo un uomo, eppure io capisco che Tu sei verità. Figlio mio fratello, e non mi sembra vero di pregarti così. Figlio mio fratello, e non mi sembra vero di pregarti così. Padre nostro, cuore un uomo, e non mi sembra vero di pregarti così. Mi sembra vero di pregarti così. Io ho visto mai che tu sei verità. Oh Signore, che vengo da lontano, e non mi sembra vero di pregarti così. Io mi sembra vero di pregarti così. Io mi sembra vero di pregarti così. Io ho visto mai vero di pregarti così. Grazie a tutti. 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 Andiamo in trasferta. Allora, alle 20.30 ci sarà la recita del rosario e alle ore 21 la Santa Messa. Quindi poi concluderemo il mese di maggio. Poi domenica prossima, 2 giugno alle ore 16 ci sarà la crisima per i nostri ragazzi e ragazze, ho visto che qualcuno era qua presente a messa. Sono in un'indici, speriamo che lo Spirito Santo scenda su di loro, speriamo che non sia una partita un po' andata male. No, andrà bene. No, 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 no. le rose, le rose da prendere, non sono tante, se Santa Rita fa il miracolo si moltiplicano, se no finiscono, e poi se c'è la possibilità di prendere l'immaginetta con la preghiera di Santa Rita, e dopodiché darò l'abilizione a tutte le rose presenti qua, non le rose in senso di nome, però rose come intese fiori, e poi i miei amici della Proloco offriranno l'aperitivo e il risotto alle rose alla Proloco, alla lanterna. La preghiera che leggerò è un po' antiquata nelle parole, perché è un classico dell'immaginetta, comunque prestate attenzione e ascolto. Preghiera Santa Rita da Cascia, o cara Santa Rita, nostra patrona anche nei casi impossibili e avvocata nei casi disperati. Fate che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione e allontani l'ansietà che preme così forte sopra il mio cuore. Per l'angoscia che voi sperimentaste in tante simili occasioni, abbiate compassione della mia persona a te devota, che confida e domanda il vostro intervento presso il divino cuore del nostro Signore Gesù Cristo. O Santa Rita, guidate le mie umile preghiere, scordatevi la mia vita passata e ottenete il perdono di tutti i miei peccati, con la dolce speranza di godere un giorno di Dio in Paradiso, insieme con voi, per tutta l'eternità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli anni. Santa Rita d'Acacia prega per noi. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Rita d'Acacia, vi benedica Dio Unipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti. Grazie a tutti. Avete visto che ha fatto il miracolo Santa Rita col sole, eh? Quindi pregatela, vi riesce il sole anche. Nell'Aurora tu sorgi più bella, con i tuoi raggi fai ieri tra la terra, e pro agli astri che il cielo di un'altra, e pro agli astri che il cielo è il Cristo, che il cielo è il Cristo. Non è la mia vita, non è la mia vita, perché il cielo è il Cristo, che il cielo è il Cristo, che il cielo è il Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.